Che piacere avermi qui, che piacere avermi qui. Esistono storie che non esistono. Il mio figlio Fernandello diventerà un ottimo ballerina. Papà, io voglio fare l'uscire. Fernandello aveva un dono. Non mi potremmo mai scritto un provino di danza. E beh, io voglio fare l'uscire. Faceva uscire la gente. Il paletto non ti manca. Ma il mondo del ballo lo attendeva. Chi è quello là? È Billy Ballo. Il miglior ballerino del mondo. Credi che potrò mai essere come lui? Se lo fossi, ti sposerei. Esistono amori che cambiano i voleri. Ho cambiato idea, lo voglio fare il ballerino. Che gioia che mi dai! Non ti sto nemmeno innamorando di me? Ma fammi vedere come fai odio un po' da bocca! Ma che? Ve nemmeno davanti al lavoro! C'è un po' di tocca! Ma va! Come mi arriva a vedere l'esercizio? Oddio! Ma gli amori non bastano. Mi fa male! E te me fa male! Non ci siamo. Voglio essere come Billy Ballo! Voglio essere come Billy Ballo! Voglio essere come Billy Ballo! Non provare a mettere Billy Ballo. Sei te stesso. Ma io sono un asino. Allora sei un asino. Esistono passi che neanche immaginate. Dagli autori di Brodo di Gocciolè. Seguirò il passo dell'asino. Una straordinaria Anna Pannocchia. Oh my God! Il candidato al Golden Goal Billy Ballo. E il plurirattristato Mariottide. Nel film che ha consacrato il talento di Bip Bip Ballerina. Avevo detto che volevo fare l'usciere. L'uomo che usciva la gente. Un film di Bruce Lagodigarda. Eh... Un film di Bip 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 Bip!! Non bucazza per l'uscire. Non bucazzeria. Autore dei sottos greatness. Un film di Bip Bip, Righto.